Con il social dream Montepacini è una giornata di sport dove i ragazzi provano altre discipline e non solo il calcio in questo caso. L'importante per noi come sempre sia quando giochiamo a calcio sia come oggi che ci divertiamo perché passiamo del tempo insieme con degli amici tipo Adriano Bistolesi e tutto il suo gruppo tipo Borgo Solestà quindi cambia poco il tipo di sport. L'importante è stare insieme e divertirsi. Quest'anno è un campionato di quarta categoria ancora più ampio. Abbiamo visto che le formazioni sono cresciute ma soprattutto non è più CSI ma è FIGC quindi possiamo dire che è un vero campionato. Esatto, quest'anno siamo diventati un campionato di calcio a tutti gli effetti a livello nazionale e speriamo di crescere sempre di più. Speriamo che tutti abbiano più voglia di far giocare tutti i ragazzi e ogni anno sempre di più. E come squadra come state andando? State migliorando per poi a gennaio parte questo campionato? Già ti stai allenando? Bene. Ti stai allenando sì? Sì. Ma tu come calci? Sei un attaccante o un difensore? Un azzurri? Ah sei un difensore? Quindi un Maldini, un Baresi? Un Maldini? Un Maldini? Allora abbiamo un campione in casa. Insomma Paolo, stai un po' esagerando no? Allora abbiamo un po' esagerando no?